Buonasera a tutte e tutti, grazie per essere con noi per questo incontro con Lukasz Tuarkovski. Questa è la terza serata e ultima dello spettacolo Rotko che è qui in scena allo Streler. Effettivamente la dimensione del teatro aiuta perché si tratta di uno spettacolo imponente, imponente dal punto di vista concettuale, imponente dal punto di vista fisico, perché c'è una macchina scenica che è parte dello spettacolo stesso, che richiede un tempo e uno spazio decisamente non conformi alla normalità teatrale. Questo è già un evento di per sé, un evento che è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico del piccolo teatro, dal pubblico di Milano, nelle prime due serate. Rotko parte dalla storia vera di un falso Rotko, non un falso nel senso di un quadro copiato, ma proprio di un quadro inventato, potremmo dire, dipinto con lo stile del pittore lettone, e però creduto, creduto vero, venduto per 8 milioni e mezzo di dollari da una mediatrice, da appunto da una seller a un collezionista. Da questa storia che apre una serie di questioni che peraltro trovano molta eco negli spettacoli soprattutto internazionali di questa edizione di presente indicativo, ovvero la dinamica tra il falso e il vero, tra la realtà e la finzione, che attraversa un po' tutto lo spettacolo, e anche l'impossibilità, forse anche l'inutilità, di cercare di trovare un confine netto tra questi due concetti. È uno spettacolo molto visivo, molto pieno di video, tante sono le citazioni cinematografiche, da direi Blade Runner a David Lynch di Lost Highway, e vorrei cominciare dando la parola a Lukasz Tuarkowski parlando del tema, tema affrescato anche dalla drammaturgia di Anika Herbuc, che ricordo tra i tanti, la grande compagine di collaboratori di questo spettacolo. Ecco, perché avete lavorato su questo tema e che cosa ci racconta oggi nel 2024? C'è abbastanza complessa, perché bisognava parlare di diversi sources d'inspiration, come c'è un lavoro che ha fatto da Riga, Dailes, e c'è loro che mi hanno dato la possibilità di chiedere il tema su cui voglio lavorare. E d'habitude, quando lavoriamo all'estranger, on essaia di trovare il tema che hanno qualcosa di in linea con l'endroio dove lavorano, per cominciare già il dialogo. Quindi, è difficile, appunto è una risposta complessa. Prima di tutto vorrei iniziare parlando delle diverse fonti di questo spettacolo, cominciando col dire che mi è stato commissionato dal Teatro Dailes di Riga e che mi ha dato la possibilità di scegliere un tema. E quando si lavora all'estero, si cerca sempre di lavorare su qualcosa che abbia anche un legame con il territorio. Quindi, io ho pensato a Mark Rotko perché mi è stato passionato per queste peinture, specialmente in l'adolescente. Le visito, c'era la salle la più importante di Tate Moderne. E anche, ho vato un'exposizione che era horrible, che non funzionava mai. E' stato a Viennes, dove hanno organizato una grande retrospectiva nel museo di l'Historia d'art, dove il s'estia vero che il concepto di l'exposizione, che era un problema di remettere Rotko nel contexte di l'Historia d'art, non funzionava mai. perché il s'estia exposito in un hall molto dorato, con tantissime decorazioni, che era assolutamente impossibile di concentrare sulle peinture. Sì, allora, quindi cominciamo da Mark Rotko. Io ho sempre amato tantissimo la sua pittura, e già da adolescente, una delle visite, una delle mostre più importanti per me e delle mostre più importanti che ho visto è stata la Tate Modern, però mi è capitato anche di vedere una mostra orrenda. E questa mostra era a Vienna, ed era una retrospettiva di Rotko al Museo di Storia dell'Arte. E questa mostra aveva un concetto che poteva essere anche interessante, cioè mettere Rotko, collocare Rotko all'interno del contesto più ampio della storia dell'arte, ma non funzionava per niente proprio nell'occasione di quella mostra, perché la mostra era stata allestita nella sala principale del museo, che era, come dire, ricca di dorature e con così tante decorazioni che alla fine era impossibile concentrarsi sui quadri. e quindi c'era il momento in cui mi ho posato la questione perché c'era un successo enorme a Vienna, c'era il che non è possibile, bisogna riservare le place, eccetera, e tutto il mondo aveva l'air molto contento, ma in stesso tempo io ho sentito che non funziona. e mi ho domandato come è possibile che sia un grande successo e che in realtà abbiamo fatto qualcosa completamente contro Rotko e quindi io sono partito dal chiedermi una ragione del successo enorme che stava riscuotendo la mostra. C'era una coda infinita, bisognava prenotare il proprio posto, tutti sembravano davvero contentissimi di quello che vedevano, mentre io non lo ero per niente. Mi dicevo questa mostra non funziona, come è possibile che abbia tanto successo? È qualcosa che va contro Rotko stesso. Io ho cominciato a me posare la questione di come questa relazione con un'altra oeuvre. C'è anche la valore, eccetera. Ma c'era anche il momento che quando ho proposto il sugetto di Rotko al teatro, ho saputo che non è il biopic che ci interesserà perché c'era il momento in cui ho lavorato molto in Chine. Appunto, io mi sono chiesto in quell'occasione ho cominciato a chiedermi come funziona la relazione con l'opera e col suo valore, cioè come pensiamo all'opera, come pensiamo al suo valore. E quello era anche il momento in cui il teatro mi ha proposto appunto di produrre, di fare uno spettacolo e scegliendo di lavorare su Rotko ho capito che non era un biopic, un approccio puramente biocrafico che mi interessava. e in quel momento stavo anche lavorando in Cina. E travaillando in Cina c'era un libro che mi ha salvato la vita e c'era Shanzhai Deconstruction in Chinese di Byung-Chul Han E quando lavoravo in Cina c'è un libro quando ho lavorato in Cina un libro mi ha davvero salvato la vita che è Shanzhai Deconstruction in Chinese di Byung-Chul Han che mi ha fatto riflettere molto E c'è un libro che mi ha fatto comprare che vi in un paradigma completamente differente e che le stesse mondi non hanno il stesso sens nelle culture differenti E' quel libro che mi ha fatto davvero capire come noi viviamo in un paradigma completamente diverso da quello cinese e come le parole le stesse parole non hanno in verità lo stesso significato in culture differenti Byung-Chul Han si concentra su quattro mots la loi l'original copia e fake Byung-Chul Han si sofferma su quattro parole che sono la legge l'originale la copia e il falso E il s'avere che on comprend complètement choses differenti e c'était pour moi hallucinant pendant le travail là-bas parce que il s'avere che on peut pas vraiment le traduire parce que c'est le paradigme qui n'ont pas le même notion même donc c'est pourquoi pendant les visites historiques en Chine qu'on voit bien que ce n'est pas un site historique qu'on posait la question est-ce que c'est original il nous demandait mais qu'est-ce que tu comprends comme original et appunto leggendo questo libro e riflettendo su queste quattro parole viene fuori che in fondo noi abbiamo una nozione completamente diversa di quei concetti e quindi è qualcosa che mi ha davvero stupito era qualcosa di allucinante quindi mentre lavoravo in Cina e quindi ho capito che non era possibile una traduzione in un paradigma completamente diverso che non ha quella stessa nozione e questo lo vediamo benissimo quando in Cina visitiamo per esempio dei siti di interesse storico e chiediamo ma è originale e loro ti chiedono ma in che senso che cosa è originale e ti dicono è com'era si ma quindi è originale e tu continui a posare questa question come un polonais e continui a così a continuare a chiedere la stessa cosa a fare quella stessa domanda come uno stupido polacco e continui a répond che è come è e loro continuano a dirti che è così è come è e voilà bisogna leggere Byung Chul Han per comprare che non c'è una nozione come originale non giusto che non puoi attenzione non esiste e basta leggere Byung Chul Han per capire che non esiste la nozione il concetto di originale non è che non ci fanno attenzione in Cina è che non esiste come non esiste l'idea del début e la fin così come non esiste l'idea di inizio e di fine come la question della moralità è posa completamente differenmente non c'è cosa come moralità per noi sono cose basiche per la cultura occidentale ma che non esistono nelle forme che noi conosciamo in Europa o in generale nel mondo occidental la moralità è una concezione inventata nel XVIII secolo avant non n'ave n'ave in Europa non plus e appunto la stessa cosa vale per la questione della moralità che è completamente diversa è una concezione completamente diversa per noi si tratta di questioni di base della cultura occidentale ma non esiste invece lì nella forma che hai in Europa o più in generale in occidente la moralità è una invenzione sostanzialmente del XVIII secolo prima non esisteva neanche in Europa e il y a beaucoup beaucoup d'experimentation de test che hanno été fatti ma potete non partire da questo sujet là perché après ce qui è più importante per moi c'était la question dell'era digitale in quale on vive c'était il momento del boom del NFT non fungible token appunto hanno fatto molti esperimenti anche su questo ma forse non è su questo punto che vogliamo discutere ma comunque sia dopo aver letto bion shul han mi sono posto la questione anche perché stavamo vivevamo nel pieno dell'era digitale e stavano cominciando a diffondersi non 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 fungibili è qui che abbiamo cominciato a riflettere su alcune cose per esempio sul fatto di individuare alcuni legami tra questa era digitale e quello che stavamo vedendo ossia per esempio il fatto che la cultura cinese probabilmente è più preparata per il futuro perché non è così attaccata alle cose materiali la stessa parola che significa originale che è composta da due segni sono due segni si tratta di due segni che vogliono dire mi sembra qualcosa come traccia di pensiero e infatti è successo più volte nella storia dell'arte cinese che la coppia fosse arrivata ad avere più valore dell'originale che è inimmaginabile per noi completamente possedati da l'originalità cosa che è completamente inimmaginabile per noi che siamo così ossessionati dall'idea di originalità ma avrei dire quando pensiamo che fa veramente sens perché loro dicono che peintura è solo un riflett di pensare quindi possiamo sempre peintare meglio c'è la copia dell'oeuvre sua mema è la copia di certe idee che può poter realizzare meglio infatti a dire il vero quando ci si comincia a pensare è qualcosa che ha senso perché se la pittura è il riflesso di un pensiero si può sempre fare qualcosa di meglio perché è la copia di un idea non è la copia di un quadro e quindi si può fare meglio si può copiare meglio con l'idea per meglio comprendere questa idea io voglio dare un altro esempio che è japonese che è incredibile c'è un temple che è detrutato completamente tutti 25 anni e reconstruito completamente di nuovo e per farvi capire meglio questo fenomeno voglio darvi un altro esempio questa volta è un esempio che viene dal Giappone e c'è un tempio che viene distrutto ogni 25 anni e poi viene ricostruito e c'è due ragioni una ragione è di far passare l'artisanat per che le nuove generazioni apprenano come le fare ma la deuxième idee è di guardare in età originale ci 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 sono due ragioni alla base di questo gesto da un lato la volontà di tramandare l'artigianato di farlo arrivare alle nuove generazioni di passare questa quest'artigianato generazione dopo generazione ma dall'altro il la tentativo di tenerlo in stato originale c'è un temple che ha rècemment été enlevé della list di UNESCO perché gli occidentali si hanno detto che non è originale è un tempio che è stato recentemente tolto dall'elenco del patrimonio dell'UNESCO perché gli occidentali si sono detto che non è originale ma ce è incredibile e è tellement lié a Rodko che ha utilizzato le pigment che hanno perduto la colore ma è incredibile anche che è qualcosa che questo fenomeno lo possiamo ricollegare anche a Rodko stesso perché Rodko ha usato dei pigmenti che nel tempo hanno perso colore e quindi ci sono tantissimi suoi quadri che non hanno nulla a che vedere con quello che erano quando sono stati dipinti con quello che erano a quell'epoca e parliamo anche solo a volte di 70 anni ma hanno completamente perso il colore e quindi la domanda è ma stiamo guardando Rodko o non stiamo guardando Rodko ci vorrebbe accanto una copia con con colori che ha usato quando ha dipinto il quadro per capire quali fossero davvero cosa ha voluto dipingere e c'è incredibile perché come io comprendo i miei amici chinois quando sono in Europa non possono comprare perché non può ricostruire l'acropolis perché è così vrac perché Notre Dame è così è incredibile perché adesso io comincio a capire meglio i miei amici cinesi che quando vengono in Europa si chiedono ma perché non possiamo ricostruire l'acropoli perché Notre Dame è in questo stato pietoso perché a vrai dire ce che guarda n'ha più rien a voir avec l'original e c'è esattamente logico c'était originale un moment l'artista l'ha creé e appunto a dire il vero non è così assurdo perché noi non vediamo l'originale quella cosa era originale nel momento in cui l'artista l'ha creato e c'è là il su un oeuvre numerique che è composé solo di cifre di 0 e 1 che può essere copiata all'infini come il capitalismo ha inventato come fare una copia originale per poter la monetizzare qui arriviamo ai non fungible tokens che sono delle opere digitali composte esclusivamente da cifre quindi da una sequenza di 0 e 1 che possono essere copiati riprodotti all'infinito ma il capitalismo ha comunque trovato il modo di rendere una di queste copie originali e quindi di farci dei soldi e malgrado il fatto che si tratti esattamente dello stesso oggetto digitale uno sul mio computer l'altro sul tuo ma tu hai pagato miliardi di dollari e questo lo rende originale e la e la è l'unica prova è la distinta del bonifico che è iscritta nel blockchain ma ma e quindi in questa visione è l'idea che conta non il suo veicolo non il modo in cui è presentata è l'idea stessa e là viene la question della valore perché durante il casting a Riga mi ricordo che la prima cosa quando abbiamo parlato con gli actori quasi tutti dicono ma come possiamo pagare tantos miliardi per queste peinture e qui arriviamo alla questione del valore perché ricordo bene che quando abbiamo iniziato il casting a Riga la prima cosa che chiedevano gli attori era ma come si fa pagare tutti questi soldi per un quadro del genere la deuxième question che si pose su NFT come possiamo pagare 84 milioni di dollari per un oeuvre che non esiste non arriviamo quindi alla seconda questione ossia quella dei non fungible come è possibile pagare 84 milioni di dollari per un opera di B che non esiste c'è assez symptomatic c'è la vente aux encher dans laquelle Bipple per un moment è devenu le più cher artiste vivant au mondo vendant ses oeuvres numeriques che n'ont pas de rappresentation materielle e e è stato un momento qualcosa di sintomatico perché è stata l'asta in cui Bipple è diventato l'artista più caro al mondo in cui un'opera digitale veniva venduta per questo prezzo un'opera digitale che non aveva nessuna consistenza materiale ma poi si si dice ma attenti ma perché ci chocano che pagano mille di dollari per le oeuvres che non existono fisicamente e è chocante per noi mentre guardiamo la pizotière di Duchamp fa più di cent anni e abbiamo molti di pizotière le même in tutto Pari poi però ci siamo detti aspetta un momento perché tanto shock perché abbiamo tutto questo shock per il fatto che vengono pagati milioni di dollari per un'opera che non esiste fisicamente e pensiamo allora al caso del cesso di Duchamp ormai ce ne sono mille riproduzioni in tutta Parigi e il y 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 e l'autre n'ha pas e ce n'est una sola che ha un valore mentre le altre hanno uno completamente diverso non ne hanno parce che ça c'est la chose qu'on veut pas toujours comprendre e on la voit très très bien qu'on regarde quelque chose d'un autre point de vue quand on regarde quand on essaye par exemple comme on a essayé d'un rotco analise les bases de e questo che appena descritto è qualcosa che succede quando vediamo cose che non vogliamo capire che non riusciamo a capire e allora è necessario assumere un punto di vista diverso e è quello guardarle da un punto di vista diverso ed è quello che abbiamo fatto con rotco abbiamo analizzato le basi della nostra cultura occidentale attraverso lo sguardo dei cinesi e c'è là on commence a voir qu'il n'y a pas quelque chose qui est réel c'est que les contrats les comment dire agreement les accordi sociali conventioni dans lesquelles on se met d'accord pour certaines choses et c'est la plupart de notre vie et des choses dont on était sûre pendant des siècles comment toute notre histoire a été créée y compris l'argent dieu religion art etc le plus grand concept de notre culture sont que les conventions et des relations entre les gens qui se mettent d'accord pour être d'accord que quelque chose existe même si ça n'existe pas et 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 qui viene fuori come in fondo non c'è davvero non esiste davvero qualcosa di reale esistono i contratti esistono le convenzioni esistono le cose su cui ci accordiamo ci accordiamo su qualcosa c'è un comune accordo su qualcosa e quindi così in verità questo vale per tutte le sicurezze tutte quelle certezze che abbiamo da secoli il denaro la religione il dio l'arte si tratta di convenzioni di relazioni tra le persone che si accordano si mettono d'accordo sull'esistenza di qualcosa anche se questa cosa poi forse non esiste non ma c'è fa c'è non ma dire que ça n'existe pas ça existe mais sur un autre niveau oui parce que c'est toute cette question de bien sûr baudrillard récemment on a travaillé sur le thème de baudrillard et c'est absolument incroyable sa simulation et simulacra comment c'est actuel maintenant il a écrit dans le début des années 80 et c'est que maintenant qu'on ressent vraiment sa vision des choses parce qu'on ne vit plus dans le réel on vit la plupart du temps dans hyper réel appunto no vorrei correggermi non è che non esiste esiste su un altro piano su un altro livello questa questione l'abbiamo messa bene a fuoco leggendo baudrillard è incredibile quello che dice dei simulacra ed è veramente qualcosa che ci colpisce molto oggi ma lui ha scritto queste cose all'inizio degli anni 80 perché e perché ce ne accorgiamo oggi perché ha un impatto tale oggi perché oggi non viviamo più nel reale ma in un mondo iper reale ecco quindi questo perché possiate vedere lo spettacolo bene proseguo intanto con un'attestazione diciamo di sollievo perché intervistare Lukasz Tarkowski è facilissimo ha anticipato tutte le domande che dovevo fargli e si è già dato le risposte quindi direi che a questo punto la questione diciamo che è ovviamente estremamente affascinante e non è neanche il caso di toccare tutti gli aspetti dello spettacolo per chi li potrà vedere questa sera ma sicuramente ha a che vedere con una diciamo posizionamento ideale dello strumento dell'arte che ci fa vedere anche la sua compromissione con il mercato questo è uno dei dissidi poi del personaggio rotco all'interno della 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 pièce e si tratta diciamo di un tema che non è semplicemente un discorso diciamo di vendita dell'anima al diavolo ma che proprio ridefinisce completamente il ruolo dell'arte per come noi abbiamo raccontato finora e per quello che invece il suo ruolo il suo ruolo oggi in effetti tutte queste riflessioni noi le possiamo trovare persino nella nostra arte diciamo italiana europea a partire dal classicismo dall'idea di classico legato alle statue bianche che non erano bianche per niente per esempio o al restauro della cappella Sistina che quando fu fatto decenni fa rivelò dei colori a cui la gente non era abituata creando uno shock visivo importante da questo punto di vista aggiungo una storia che ho conosciuto tempo fa e mi sembra abbastanza divertente il fatto che le tavole d'argilla su cui è scritta l'epopea di Giddi Gilgamesh che tutti quanti avrete visto quasi sicuramente spezzate in tre o in quattro parti non sono spezzate in tre o quattro parti così come vengono poi esposte nei musei perché perché il tempo le ha rotte ma perché i mercanti iracheni una volta capito quanto le pagavano i collezionisti inglesi hanno cominciato a romperle in tre o quattro parti per fare più soldi quindi diciamo l'immaginario che noi abbiamo dell'antica tavola d'argilla spezzata dal tempo è in realtà il frutto di una decisione di mercato potremmo definire che è poi diciamo il grande dissidio il grande dissidio che il personaggio Rotko vive all'interno della PS c'è un altro tema che è quello degli esperti nel momento in cui il mercato ha desacralizzato diciamo l'arte risacralizzandola dal punto di vista economico gli esperti che fine fanno allora qui ci sono tantissime storie gli esperti ci sono tantissime storie ecco Marc Fumaroli ad esempio un critico francese ne ha descritte tantissime io ne ricordo solo due le dico diciamo così ma in maniera randomica nel 2015 al MoMA di San Francisco un ragazzo appoggia gli occhiali per terra e il pubblico si mette a fotografarli nel 2016 a Bolzano non ricordo il museo una inserviente che stava lavorando ha buttato delle bottiglie vecchie che erano però in realtà un'installazione andando invece più su un tema che tocca anche un po' la sensibilità nel 2001 Stockhausen definisce la più grande opera d'arte cosmica andando poi a capire che cosa volesse dire con questa definizione l'attentata alle Twin Tower dell'11 settembre ricevendo in cambio uno stracismo che durerà quasi fino alla fine della sua vita perché furono cancellati molti molti suoi concerti ecco però in qualche modo aveva detto qualcosa aveva raccontato qualche cosa della tentativa dell'arte di estremizzare se stessa per poter continuare a significare qualche cosa ora diciamo questa dinamica di dissipazione che è quella che un po' il rotco della tua PS diciamo sente si addanna si arrovella su questa cosa è il segno del fatto che diciamo che l'arte ha perso la propria centralità oppure l'arte stessa è complice di questo meccanismo qual è la risposta che si dà a rotco nel tuo lavoro la prima cosa che cerchiamo di fare con tutti i nostri progetti è di non dare risposta quindi Non c'è una risposta non più, posso solo pensare, perché ovviamente noi siamo più nel mondo del teatro e quando lavoriamo e quando montiamo un progetto, bisogna sempre negociare e trovare qualcosa che sia tra noi, che può essere molto personale e che può investire in questo mondo che parla del marchio dell'art visuelo. Qui non ho una risposta, posso pensare a una risposta ora e soprattutto per noi che viviamo nel mondo del teatro, quando montiamo comunque, quando lavoriamo, cominciamo a montare uno spettacolo, a lavorare uno spettacolo, dobbiamo comunque negoziare qualcosa tra qualcosa che fa parte di noi di molto personale e il mercato. E siamo tutti artisti di una generazione di mezzo, direi, né vecchi né giovani. E c'è per cui c'è molto importante per noi di non parlare solo di Rotko, ma di parlare anche di ciò che cominciano e di proprio posare queste domande, di lavorare veramente su tutto il spettacolo di questo sistema dell'arte. Per questo è molto importante per noi non parlare solo di Rotko, ma anche di quello che sta cominciando a succedere ora e di lavorare quindi su tutto lo spettro del sistema dell'arte. Io credo che in quanto riguarda lo spettacolo che dovete vedere, ci sono molti momenti molto personale, di dialogo che abbiamo fatto e che abbiamo avuto con le direzione differenti. E anche a proposo degli esperti, è anche probabilmente la nostra piccola di rivoluzione di nostro personale con le critiche polone al principio del nostro lavoro. Allora, e appunto, quindi lo spettacolo che vedrete questa sera è pieno di momenti molto personali, di dialoghi che abbiamo davvero avuto con le diverse direzioni con cui ci siamo confrontati. E quanto agli esperti, beh, dirò che lo spettacolo è anche una sorta di piccola ripicca, di piccola vendetta personale nei confronti dei primi critici polacchi che hanno visto lo spettacolo. Beh, no, sì, si intuiva, devo dire, si intuiva. Beh, però il tema dell'originale a suo modo e quindi che cosa ha valore e che cosa no è connesso anche con il tema dell'identità artistica, che è uno dei grandi temi della critica, no? Dare delle etichette, in qualche modo dare delle identità perché significa esercitare un potere. Allora, mi viene da passare a un altro aspetto centrale del lavoro che è l'utilizzo del video. E l'utilizzo del videoteatro è qualche cosa di spettacolare all'interno di Rotko, ma chiaramente vedrete tanto video, tanta tecnologia, un live cinema di grande qualità, anche fotografica. Allora, premetto che la domanda che sto per fare a Lukas è per me ozziosa e senza senso, ma gliela faccio per permettergli di rispondere. È ancora teatro? È cinema? Sono tutte e due le cose insieme? Nessuna di queste due cose? C'è alcuna di queste due cose, io penso, perché io penso che nella maggior parte dei progetti che abbiamo fatto e che abbiamo cercato di trovare, io l'appello teatro ibridico, se bisogna l'appellare teatro, teatro ibrido. Quindi direi che l'ultima cosa, non è nessuna delle due cose, perché in ogni progetto su cui lavoriamo cerchiamo di arrivare a un teatro che definirei ibrido. Perché io credo che se utilizziamo bene i modi del cinema, di certi codi, e anche questa cosa che è incredibile è Tarkovsky che ha detto che il cinema è il primo art che potrebbe capire il tono. E allora è perché credo che se si utilizzano bene tutti i mezzi che ci mette a disposizione il cinema, se si utilizzano bene alcuni codici, beh, questo avviene, perché credo sia Tarkovsky ad aver detto che il cinema è la prima arte che è stata in grado di captare il tempo. E c'è qualcosa di magico in questo, perché se si pensiamo del cinema e dell'immagine cinematografiche, e se pensiamo che il tempo e l'espace sono le stagione, come lo sape già già dopo Einstein, che non possiamo non le separare, significa che in utilizzando questo medium abbiamo la possibilità di ottenere, di ottenere, di ottenere, di ottenere altre dimensioni, io diria. E quindi è qualcosa di magico, perché se pensiamo al cinema, se pensiamo all'immagine cinematografica, e se pensiamo al tempo e allo spazio come due cose che non possono essere considerate separatamente, è Einstein che ce l'ha insegnato, beh, capiamo anche che attraverso questo mezzo possiamo veramente espandere, possiamo aprire altre dimensioni. Perché c'è qualcosa di magico già in l'immagine cinematografica, anche sul plateau, che in realtà è paradossale, che abbiamo l'impressione che l'immagine video è più vera che ciò che si passa veramente in realtà sul plateau. E perché c'è qualcosa di magico già nel vedere l'immagine cinematografica sul palco, perché qui si produce qualcosa di paradossale, cioè che l'immagine video ci appare più vera di quello che invece si sta svolgendo sul palco. E c'è lié a due cose, io penso. La prima cosa è già come noi siamo completamente immersi nell'iperrealità, e che sono le immagini che parliamo più vite, più facilmente, siamo più in contatto con le immagini che con la vera realtà, diciamo, e questo è legato a due aspetti. Il primo è che il fatto ci fa riflettere su quanto siamo ormai totalmente immersi nell'iperrealità, per cui le immagini ci parlano di più della realtà stessa, se esiste. Ma è allo stesso tempo anche l'inquadratura, il contesto dato dall'inquadratura, che ci dà già di per sé questa promessa di infinito, perché poi invece sul palco noi vediamo benissimo i limiti del palco, dove finisce vediamo il backstage. Una volta che tu cadri l'immagine, tu c'è la fine, tu lavorasci proprio con un dettaglio che è caduto, quindi ti dà alcune promesse come se il mondo avessi potessi continuare all'infini. E invece appunto quando inquadri l'immagine è come se tu ne coprissi la fine, ti concentri su un dettaglio e è come se dessi una promessa che quel mondo in verità può anche continuare all'infinito fuori dall'inquadratura. E da qui viene questa misteriosa tensione tra il reale e la rappresentazione. che fa in modo synergico che ci sono due miglia che, sono sicuro, non si aggiungono ma ma si moltiplici. C'è veramente una sorta di synergico, non è più il teatro più il cinema, ma ci ha dato una forma hybride che è più forte che l'un e l'altro, non è solo la somme, ma c'è veramente la multiplicazione che donna questa possibilità, tra l'altro, di creare altre dimensioni che non si può creare senza l'utilizzo di video. E appunto questo fa sì che si crei una sinergia, una vera e propria sinergia tra questi due medium, che sono, veramente sono certo del fatto che non si tratti di una somma, ma piuttosto di una moltiplicazione, e quindi questa forma ibrida finisce per essere più forte delle due forme prese singolarmente o anche delle due forme messe una accanto all'altro. Quindi abbiamo un effetto di moltiplicazione che apre ad altre dimensioni. Io sono senza osare di domandare quando è che infine voglio fare un film e questa è una cosa che non mi eccita di tutto. E mi sono continuo a chiedermi quando farò un film, ma alla fine mi sono reso conto che è una cosa che non mi interessa per niente. Ma voglio fare un film, un po' di tempo. Ma prima o poi lo faccio. Beh, c'è da dire se è la realtà che è scomparsa nell'iperrealtà o se anche noi cominciamo a rappresentare il nostro pensiero attraverso il linguaggio filmico, così come un tempo nell'Ottocento lo si faceva attraverso il teatro. Il nostro linguaggio è disseminato di questi meccanismi mentali, da quelli più banali, descrivere la vita di qualcuno come un film all'idea di montaggio, come racconto, come narrazione. E questo è affascinante perché vuol dire che noi stessi plasmiamo il nostro modo di pensare su dei meccanismi narrativi, quindi di fatto manipolabili, ma dall'altro apre il discorso proprio a quanto siamo autori e quanto siamo invece vittime di manipolazione. Questo è un altro grande tema. Visto che ci stiamo avvicinando alla fine, però, io vorrei chiedere a Lukács di spendere due parole anche sulla macchina e la squadra che rende possibile tutto questo. Perché alla fine dello spettacolo, per chi è stato presente nelle prime due repliche, abbiamo visto, credo, 26 tecnici, 16 attori, una quantità davvero enorme di maestranze, di attori, di artisti. Ecco, che cosa significa, anche in senso molto pratico, creare una macchina del genere, sia dal punto di vista delle persone che la manovrano, sia dal punto di vista tecnico? C'è non facile e ci prende du tempo e ci prende molta patienza, ma penso che ciò che è più importante anche, ciò che facciamo in questo spettacolo, non è un gesto avido, ciò che demanda d'abord l'equipe tecnica di se presentare a gli applaudissimi, come si chiamano le white staff, c'è veramente una cosa che ho sentito da tutto il primo, quando ho cominciato a lavorare nel teatro, che io detestavo completamente la hiararquia, specialmente in Pologna, che è molto forte, tra l'ensemble artistico e l'ensemble tecnico, è qualcosa che non mi supporto. Ci sono gli ensembi che non si parlano, cioè ci sono assi alle diverse diverse, e non so come fare il teatro in queste condizioni, ciò che è molto importante per me, è incredibile l'accueil che abbiamo con l'equipe locale, perché, ovviamente, non ne viagano a 27, la maggior parte sono i locaux che lavorano qui qui lavorano con noi, e è incredibile, è importante per me, per che ogni persona che partecipi al spettacolo si senti creatore e si senti responsabile per l'euvre che produzione questa mattina. Non c'è solo il lavoro tecnico, è una cooperazione e una co-criazione che non è possibile. Io non credo che sia possibile se tu fai solo un giga senza veramente paya l'attention, perché è una cosa energetica, sia funziona, sia funziona, sia funziona. E per che sia funziona, ciò che è più importante è di creare un espace di confianza e di appreciazione l'un per l'altro, l'intérêt l'un per l'altro, per poterare questo mondo ogni giorno insieme. Sì, allora non è facile rispondere a questa domanda, però dirò che ci vuole davvero molto tempo, ci vuole molta pazienza, però per me è una cosa molto importante e in questo spettacolo non è qualcosa di così, come dire, una mera recita, il fatto che non è un gesto privo di senso, il fatto che anche i tecnici escano per gli applausi. Io ho sentito questo problema da subito, da quando ho iniziato a lavorare in teatro e ho sempre detestato la gerarchia, la separazione tra il comparto artistico e quello cosiddetto tecnico, che sentivo tra l'altro molto forte in Polonia. Sentivo forte questa separazione tra due comparti proprio che non si parlavano, sedevano addirittura a tavoli diversi. E invece per me è importantissimo lavorare in certe condizioni come quelle che ho avuto lavorando qui, per cui mi sono trovato benissimo, perché è ovvio che non è che viaggiamo sempre tutti, e che abbiamo lavorato anche con i tecnici, le maestranze qua del piccolo teatro. E quello che vorrei dire è che siamo tutti responsabili per quello che succede sul palco. Non è che c'è qualcosa che è puramente e semplicemente tecnico, si tratta sempre di un lavoro di cooperazione, direi di co-creazione. E questo quindi non è solo una semplice messa in scena. E perché funzioni, perché questo funzioni, perché questo avvenga, è necessario che si apra uno spazio di fiducia, di interesse per quello che fa l'altro, di interesse gli uni per gli altri. E qua davvero questo è successo, mi sono trovato molto bene, molto mio agio, e per questo vorrei ringraziare tutte le persone che lavorano qua al piccolo teatro. Sicuramente un applauso, giusto. È sicuramente parte dello spettacolo vedere questa macchina che si costruisce, tutte queste maestranze, attori e artisti che cooperano insieme. E assieme al tema del falso e del vero, della decostruzione e della manipolazione, che mi sembra interessare a livello mondiale, la generazione teatrale di Tuarkovski, c'è il tema del rompere gli schemi, diciamo, verticistici, piramidali della creazione teatrale, che è un'altra questione che ho sentito in qualche modo affrontare da diversi registi della tua generazione. Allora, abbiamo ancora una decina di minuti, quindi chiederei al pubblico, a chi è qui, insomma, che vuole condividere con noi una riflessione oppure fare una domanda a Lukasz Tuarkovski, se potete, se volete, siamo qui. Ecco, al microfono magari. Volevo chiedere se conoscete Fassbinder, se le piace. Mi ha fatto venire, mi ha venuto in mente, vedendo lo spettacolo. Ah, ce n'est absolument pas voulu, ma c'est vrai qu'on a lavorato già due volte sui progetti su Fassbinder. Il primo progetti, c'était in 2012, quando abbiamo fatto Love is Colder Than Death a Wroclaw. C'était un dei grandi progetti che ho montato con una docena di acti, del Teatro Polsky di Wroclaw, che era inspirato di Fassbinder. Le acti mi ha detestato perché ho fatto vedere una venta di film di Fassbinder. Io penso che questa è stata una delle esperienze la più traumatiche per loro. Ma il fatto è stato super cool. Ah, e una cosa interessante perché è par rapporto all'originalità anche. Quando abbiamo montato questo spettacolo, non so se voi sapere, la Fondazione Fassbinder, c'è la fondazione la pire au mondo che vuole assolutamente che le persone parlano e fassero qualcosa di Fassbinder perché è impossibile d'utilizare il suo nome perché è un trademark. Quindi non ti ho capito di scrivere che il fatto che il fatto è inspirato di Fassbinder perché i fanno allare al tribunale che ti utilizza il nome che è trademarkato per la fondazione. Quindi quando ci hanno adorato un mail officio, che i fanno allare al tribunale se vuole scrivere che è inspirato di Fassbinder, abbiamo scritto nel programma che il fatto che il fatto è inspirato per un realizzatore benvenuto ma non può dire il suo nome perché è interdito per la fondazione di Fassbinder. in effetti non ci aveva pensato però è vero, c'è del vero in quello che dice perché ha già lavorato in due occasioni su due progetti su Fassbinder e il primo era con Love is colder than death che era andato in scena a Rokla e che era ispirato a Fassbinder e devo dire che poi gli attori in quell'occasione mi hanno odiato perché li ho obbligati a vedere 20 film di Fassbinder ed è stata una delle esperienze più traumatiche che abbiano mai fatto però poi devo dire che lo spettacolo è stato davvero è venuto davvero bene è stato molto bello ma la fondazione Fassbinder è il peggio che si possa immaginare perché non vogliono in alcun modo che si lavori su Fassbinder che si usi il nome di Fassbinder vietano addirittura appunto proprio di usare anche solo il nome che è ritenuto un loro marchio di fabbrica per cui non lo puoi usare neanche nel titolo se lo fai ti mandano in tribunale e in effetti anche noi abbiamo ricevuto puntualmente una loro mail in cui ci intimavano di non usare il nome e quindi sul programma di scena abbiamo messo che questo spettacolo è ispirato a un famoso regista di cui non si può fare il nome perché farne il nome è vietato dalla fondazione Fassbinder è una storia di cui ci ha fatto molto tempo ma io l'ai completamente oublia e non penso e poi sì c'è anche appunto il secondo progetto che abbiamo sviluppato su Fassbinder è in effetti il nostro ultimo spettacolo dopo a cui abbiamo lavorato dopo Rothko che è WOW World on Wirecard che è ispirato alla miniserie da un lato World on the Wire e dall'altro Wirecard che richiama anche il più grande scandalo bancario che si è avuto un grandissimo scandalo bancario che si è avuto in Germania l'anno scorso bene dicevamo questa storia del marchio registrato va ancora più avanti in quello che è l'estrazione di valore dalla vita compiuta dal tardo capitalismo con la grande complicità del mondo artistico tra i primi a registrare il nome credo ci sia stato Charlie Chaplin nel mondo teatrale non c'è tantissimo ma credo il nome Pina Bausch sia registrato allora vediamo se c'è qualche altra domanda per Lukasz Tuarkowski può venire grazie io vorrei sapere anzi se ha voglia di dirci due parole sulla sua esperienza nel teatro lettone vorrei sapere se ha voglia di dirci due parole sulla sua esperienza nel teatro lettone sugli attori e tutto quello che lei ha insomma ha vissuto visto che in Italia è sconosciuto non c'è non c'è non c'è non c'è ma preparazione ma preparazione con le suget inspiration plein 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 de sources e non c'è a costruire questo mondo con gli attori su place. D'habitude, on comincia con un laboratorio di cinque settemane dove lavoriamo con le camera, dove fanno un atelier di come diventare cameraman, etc. On fa molta improvvisazione, si serve dopo l'escrizione del scenario, e poi si separa per 3-4 mesi per scrivere il scenario, e poi arriva dopo 3-4 mesi per fare il scenario. E'essayate di liberare completamente da questa tensione e questa pressione nel lavoro che fa un spettacolo. Io mi dico sempre, non ne facciamo di spettacolo, bisogna fare un spettacolo. Quindi si amusemo 5 mesi, e poi, a la base di questi giochi, diciamo che i spettacoli, di creare questo mondo insieme. E i acti di Riga sono stati molto aperti, ma io penso che, non so, abbiamo creato una sorta di belle equipe e non abbiamo mai avuto problemi, non importa in quale paese lavoravano, di far entrare le persone nel processo comunale, e questo si passa abbastanza rapidamente. Sì, è stata un'avventura, ma d'altronde è come ogni volta che si lavora in un altro paese. Questo ha a che fare col modo in cui lavoriamo agli spettacoli, perché noi partiamo senza copione, senza già dei personaggi, abbiamo un soggetto, abbiamo tantissime fonti, e poi cominciamo a costruire proprio il lavoro insieme con gli attori. Lavoriamo più o meno cinque settimane, lavoriamo con le telecamere, insegniamo a come gestire la telecamera, istruiamo i cameraman, facciamo una fase di improvvisazioni, e poi interrompiamo per tre, quattro mesi e lavoriamo al copione. Perché io non voglio che ci sia quella pressione, già fin dall'inizio, dello spettacolo. Dico, qui non ci deve essere per la pressione dello spettacolo, ci vogliamo divertire, quindi ci vogliamo divertire per queste cinque settimane e vogliamo creare un mondo insieme. E gli attori di riga, devo dire, si sono dimostrati molto disponibili, ma anche, vorrei dire che non ho mai avuto grandi problemi a far capire le persone con cui lavoravo a far capire questa modalità di lavoro. È sempre stato comunque un processo, devo dire, molto rapido. C'è da dire una qualità di recitazione davvero molto alta, su questo facciamo i complimenti. C'era un'altra domanda con la quale possiamo, direi, concludere, perché non manca moltissimo per lo spettacolo. Ho partecipato alla Masterclass prima e ha detto velocemente che ha intenzione di lavorare su una trilogia scientifica. Volevo sapere meglio perché di questa scelta e su che cosa ha intenzione di lavorare nel prossimo futuro. A riguardo. Beh, è stato un esito quasi obbligato. Tutto il lavoro che abbiamo fatto nei tempi precedenti in un certo senso è andato necessariamente a poi parare sulla scienza. Ma probabilmente non arriverà così vite se la battuta non avrebbe scritto un bucino «When we cease understanding the world». «When we cease understanding the world». «When we cease». «When we cease». «When we cease». «Ah, when we cease». «Ok». «Ma probabilmente devo anche dire che la cosa non sarebbe successa così velocemente se la battuta non avrebbe non avesse scritto un libro che si intitola «When we cease understanding the world». Quindi quando smettiamo di capire il mondo. «Je ne sais pas il y a Schrödinger il y a Heisenberg il y a d'autres scientifiques e je me suis dit come altri scienziati mi ha davvero volevo fare qualcosa di ispirato a quel libro e anche se non avevo idea già di come portarlo sul palco ma alla fine non ci hanno dato i diritti perché li hanno già venduti a Hollywood». «Et donc je me suis dit encore mieux come ça tutto il libro e alla fine se non è questo il libro a cui sono legato posso davvero poi muovermi in più direzioni perché non esiste solo la fisica quantistica ci sono tante altre cose che possiamo esplorare nella trilogia». «Et après pourquoi la fisica quantistica il faudrait avoir encore une autre conférence d'une heure?» «Et poi sul perché la fisica quantistica beh per questo ci vorrebbe un altro incontro di un'ora». «Mais c'est absolument passionant moi je suis complètement dedans et je pense que c'est vraiment dommage que ça n'a pas passé parce qu'une fois Newton a proclamé ces lois tout de suite ça a changé le monde entier et d'une manière ou d'une autre la découverte de la fisica quantica n'a pas changé vraiment rien au niveau social ça veut dire que ça a resté vraiment un côté scientifique qui est trop difficile qu'on ne veut pas vraiment comprendre à Feynman après il a rajouté que si tu crois que tu as compris quelque chose ça veut dire que tu n'as rien compris tout le monde s'est dit bon alors on peut pas le comprendre c'est pas vrai qu'on peut pas le comprendre mais c'est très très difficile parce qu'il faut encore une fois changer le paradigme tout de suite tout de suite non c'est pas un changement c'est pas un changement